Ben ritrovati amici di Padre Pio TV. La notizia su cui oggi faremo un approfondimento non è recentissima, risale al 22 ottobre, ma i fatti più clamorosi che sono succeduti ci hanno indotto a metterla da parte, tanto comunque la notizia sembra ancora fresca per l'attualità e per il paradosso a cui sembra ispirata e a ripescarla a distanza di tempo. Dicevamo che il 22 ottobre scorso il Corriere del Mezzogiorno, ma non solo questo organo di informazione, anche altri ne hanno parlato, comunque il Corriere del Mezzogiorno in prima pagina ha titolato in taglio medio questa notizia, e cioè punito per aver salvato vite, Procacci scrive a Mattarella, per due anni isolato dalla famiglia mi sento offeso. E poi nell'occhiello il direttore del pronto soccorso fra i tre medici multati per troppi straordinari durante il Covid. Questo in prima pagina e poi all'interno del quotidiano che accompagna il Corriere della Sera nella zona della Puglia, un'intera pagina dedicata a questo argomento. La notizia anzitutto, l'articolo è firmato da Vito Fatiguso, è titolata Straordinari puniti in tre, la rivolta dei medici, leggiamo. L'Ispettorato del Lavoro ha acquisito i registri del personale in servizio da giugno 2021 a settembre del 2022 in pieno Covid, poi ha elevato la sanzione da 27.122 euro nei confronti del direttore dell'unità operativa di medicina e emergenza urgenza del Policlinico di Bari Vito Procacci per non aver rispettato la normativa sugli orari di lavoro e la sintesi del provvedimento notificato due settimane fa, ma che in precedenza a maggio e agosto è toccato anche ad altri due responsabili di unità complessa, i primari di chirurgia generale Angela Pezzolla e del centro trapianti di fegato Luigi Lupo, per complessivi 10.000 euro. Siamo all'incredibile, ha commentato Filippo Anelli, presidente dell'Ordine dei Medici, perché invece di ringraziare i sanitari per essersi impegnati oltre all'orario dovuto in un momento di grande emergenza, scatta la sanzione. Intanto il professor Loreto Gesualdo, ordinario di nefrologia all'Università di Bari, ha lanciato provocatoriamente una campagna social per una raccolta fondi a favore del collega Vito che con il suo staff ha lavorato di più durante il periodo della pandemia. Ma come vedremo fra poco non c'è stata più la necessità di questa raccolta fondi per sostenere questo primario, per evitare che pagasse di tasca propria la multa, nonostante questa fosse stata combinata per aver lavorato di più e peraltro in un periodo di emergenza. Ma sempre sulla pagina interna del Corriere del Mezzogiorno, pagina 5, troviamo anche un'intervista al dottor Procacci, lo vedete nella frota, al primario del pronto soccorso. Il titolo è io intrincea contro il Covid, multato per aver salvato vite. E poi nel sommario parla Procacci, direttore del pronto soccorso, sanzionato per aver lavorato troppo, ho vissuto due anni isolato dalla mia famiglia, ecco perché ho scritto a Mattarella. Leggiamo una parte di questa intervista. È impossibile nascondere la malezza per quello che è successo. Mi sono sentito offeso come professionista, medico e uomo. Eppure nei mesi difficili dell'emergenza Covid eravamo definiti eroi, mentre si scopre che ora c'è chi ci chiama trasgressori. Sa qual è il paradosso? Che per contribuire a salvare la vita delle persone non ho potuto assistere alla laurea di mia figlia e per due anni ho vissuto in stanze separate dal resto della famiglia. Vito Procacci, direttore dell'unità operativa di pronto soccorso e di medicina di emergenza urgenza del Policlinico di Bari, ha ricevuto la notifica di una sanzione amministrativa, l'abbiamo già letto, lo ripetiamo, elevata dall'Ispettorato del Lavoro con un importo importante 27.100 euro. Questo è dunque l'antefatto, o meglio il primo fatto, perché poi questa lettera, questa missiva che Procacci ha inviato al Presidente della Repubblica ha avuto i suoi effetti. Tanto è vero che altri organi di informazione, compreso il Corriere del Mezzogiorno, dopo aver dato la notizia di questa paradossale multa, di questa multa che magari potrà essere anche legale, ed è questo quello che approfondiremo nella seconda parte del programma, ma che comunque nell'ottica di una ragionevolezza sembra appunto assurda, ecco, dopo aver scritto a Mattarella per spiegare questa situazione, c'è stato uno sviluppo, uno sviluppo che noi possiamo apprendere grazie ad un servizio realizzato e mandato in onda dalla TG Norma. Vediamolo insieme. È stato sospeso il procedimento a carico di alcuni medici del Policlinico, di vari multati per aver lavorato oltre il limite consentito durante l'emergenza Covid. L'Ispettorato Nazionale del Lavoro è intervenuto dopo il polverone sollevato dal primario del pronto soccorso dell'ospedale, Vito Procacci, multato per gli straordinari accumulati durante la pandemia. Procacci aveva denunciato il paradosso in una lettera inviata al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Il medico si era visto recapitare una sanzione amministrativa da 27 mila euro, mentre altri due primari ne avrebbero dovuti pagare 10 mila. La questione alla fine è stata risolta proprio grazie all'interessamento del Capo dello Stato, che ha denunciato il caso alla Ministra Calderone, la quale ha subito imposto la sospensione del provvedimento, ma la rabbia resta. Abbiamo già indicato al Policlinico che deve procedere a formalizzare una contestazione e un ricorso ed è stimolato anche dalla Regione a cercare di contestare e di far rientrare in questa situazione. Ci sono gli spazi sicuramente per poter intervenire anche dal punto di vista finanziario perché si tratta di spese Covid, attenzione, spese Covid. Una vicenda a mio avviso spiacevole, ritengo che debba essere assolutamente riconosciuto lo straordinario a chi durante il Covid, a tutti gli operatori sanitari che durante il Covid hanno fatto maggiore lavoro perché era giusto farlo. Sembra dunque che il problema sia stato risolto, diciamo che non possiamo avere dubbi sul fatto che comunque ormai la notizia sembra essere destinata ad essere archiviata, ma resta l'amarezza, quella amarezza che trapelava appunto da quelle interviste di cui abbiamo letto soltanto una parte prima del servizio televisivo. E leggiamo anche qualche altro spunto. Direttore Procacci ha chiesto Vito Faticuso del Corriere del Mezzogiorno. Ricevuto il verbale ha scritto subito una lettera al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Come mai? Con la mia equipa, ha risposto il primario del pronto soccorso, abbiamo lavorato tanto per salvare la vita delle persone. In reparto c'era una media giornaliera di 80 pazienti ricoverati in gravi condizioni. Nell'arco del periodo pandemico sono state assistite 8.600 persone, di cui 1.600 ventilate meccanicamente. Ecco perché è importante anche capire il punto di vista di chi ha vissuto quell'esperienza, al di là del fatto che ormai tutto si è risolto nel migliore dei modi. Altra domanda del giornalista. Forse c'è chi non era contento di fare straordinari e ha pensato di denunciare. Risponde il primario. Guardi, non mi interessa come sia partita l'attività ispettiva. So solamente che tutti abbiamo adempiuto ad un nostro dovere di operatori sanitari. L'emergenza è stata sotto gli occhi di tutti e c'era da garantire l'assistenza. Ancora prosegue il giornalista con un'altra domanda. Le normative europee parlano di limiti all'orario di lavoro, ma c'è anche da ricordare che lo Stato d'emergenza nazionale, con deroga di alcune regole, è proseguito fino all'inizio di aprile del 2022. Quanti eravate in servizio? E risponde allora Procacci. Nel pronto soccorso di Bari, che dirigo dal 2018, c'erano 26 medici su una pianta organica di 40. Va ricordato che molti hanno contratto il virus e bisognava sostituirli con medici in grado di erogare tali prestazioni. Guardi, anch'io sono stato costretto, dice ancora il primario del pronto soccorso, a stare in servizio per molte ore senza pausa. Non va dimenticato ciò che il mondo ha dovuto affrontare. E poi ancora una domanda, sono le ultime due, erano i mesi del distanziamento sociale, risponde il primario, per questo quando ho ricevuto il verbale non credevo ai miei occhi. Vorrei far presente che per precauzione sulla diffusione dei contagi non ho potuto assistere alla laurea di mia figlia e ho vissuto due anni in una stanza separata dal resto della famiglia, le sembra poco, dice il medico. E infine l'ultima domanda del giornalista, cosa si aspetta per i prossimi giorni? Non so, abbiamo fatto ricorso e contesteremo il provvedimento. Stessa strada è imboccata anche proprio dal lente policlinico, ma è sicuro, non so più chi siano gli eroi della sanità. Spero che Mattarella colga la mia amarezza. Mattarella, come abbiamo già detto, ha colto l'amarezza. Noi abbiamo voluto anche sottolinearla dopo aver visto appunto qual è stato l'esito di questa richiesta al Presidente della Repubblica, ma era opportuno capire, o meglio ricordare, a quanti ci seguono che i medici davvero hanno fatto un lavoro enorme ed incommiabile durante il periodo della pandemia. Ma vogliamo capire fino a che punto questa posizione assunta in maniera istituzionale dall'Ispettorato del Lavoro è corretta, se risponde perfettamente alle norme, anche se come abbiamo ribadito più volte non corrisponde probabilmente al buonsenso e alla realtà dei fatti e lo faremo nella seconda parte attraverso un'intervista in collegamento di videochiamata con l'Avvocato Enzo De Michele, esperto di diritto del lavoro, giuslavorista. Restate con noi, dopo la pubblicità approfondiremo la questione. Come preannunciato siamo in collegamento con l'Avvocato Enzo De Michele del Foro di Foggia, esperto di diritto del lavoro, giuslavorista, col quale tenteremo di capire quanto ci sia di, diciamo, tra virgolette corretto nella multa che l'Ispettorato del Lavoro ha elevato al primario del pronto soccorso dell'ospedale del Policlinico di Bari e ad altri suoi due colleghi, altri due primari sempre del pronto soccorso, per aver fatto lavorare alcuni medici dei loro rispettivi reparti più delle ore necessarie e per aver lavorato anche loro stessi più del necessario durante il periodo del Covid. Bentornato fra noi, Avvocato De Michele. Grazie, grazie dell'invito. Ti saluto caramente. Grazie. Allora, il buonsenso, credo, lo dimostra anche l'accoglimento da parte di Mattarella e del Ministro del Lavoro, dell'istanza dei tre medici, dice che quel provvedimento non doveva esserci, ma in realtà c'era una necessità di rispettare le norme da parte dell'Ispettorato del Lavoro? Innanzitutto cominciamo con il dire che la materia è molto fluida, perché qui stiamo parlando di una pubblica amministrazione, non stiamo parlando di un datore di lavoro privato. E peraltro mi risulta che l'ASL, ogni ASL territoriale naturalmente, abbia la competenza esclusiva in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro. Quindi non è questa una competenza dell'Ispettorato. È vero che l'Ispettorato ha competenza per quanto riguarda la verifica dell'orario di lavoro, ma qui siamo in una pubblica amministrazione. Normalmente, nonostante tutte le insistenze che noi avvocati facciamo quando dobbiamo cercare di far accertare delle situazioni di questo tipo, di illegalità o di presunta illegalità all'interno degli ambienti di lavoro, in particolare per le aziende sanitarie e le aziende ospedaliere, normalmente l'Ispettorato non interviene mai. Adesso interviene a sanzionare un comportamento di, innanzitutto, di dirigenti medici. È vero, anche i dirigenti medici hanno un orario di lavoro, ma sono dirigenti e qui è stato sanzionato chi è il capo della struttura, cioè il dirigente della struttura di tre strutture complesse, tra cui quella del pronto soccorso nella persona del dottor Procacci. Io, al di là del discorso emergenziale e dell'assoluta carenza di buonsenso, non capisco proprio il profilo normativo attraverso il cui l'Ispettorato del lavoro si muove in un ambito così delicato come l'azienda ospedaliera, peraltro in un settore ancora più delicato come il pronto soccorso, ad esempio. In un momento particolarissimo, in cui sono saltate tutte le regole, i operatori sanitari, non solo i medici, infermieri e operatori sociosanitari sono stati veri eroi in una situazione in cui lo Stato si è fatto trovare totalmente impreparato. Quindi questo episodio è particolarmente sgradevole da un punto di vista, sicuramente nel buon senso, ma meriterebbe un approfondimento anche dal punto di vista giuridico. Non capisco che cosa sia successo, che cosa abbia fatto scattare questa situazione di sopralluogo e di censura dei comportamenti di persone che neanche possono essere considerate nei veri datori di lavoro. Qui stiamo parlando di dirigenti di struttura complessa che avrebbero organizzato il lavoro in una situazione emergenziale di altri dirigenti medici andando fuori dell'orario. Però poi qualcuno mi dovrebbe spiegare perché non si vanno a controllare le prestazioni aggiuntive per la carenza del personale medico o del personale infermieristico. Qualcuno mi dovrebbe spiegare come è compatibile da un punto di vista giuridico questa situazione, ad esempio con l'autorizzazione per i medici a fare attività extramoegne, cioè ad avere un presidio sanitario proprio in cui fare gli interventi, fare altre prestazioni in autonomia senza la convenzione con l'ospedale o l'azienda sanitaria da cui sono dipendenti. Ci sono molte cose da spiegare. L'episodio non è soltanto sgradevole da un punto di vista etico e anche appare, però dovremmo leggere le carte francamente, anche ingiustificabile da un punto di vista giuridico e istituzionale. Spero che l'intervento del Presidente Mattarella e l'intervento della Ministra del Lavoro abbia chiuso questa tristissima vicenda che non doveva accadere e che purtroppo segna anche una discriminazione rispetto ad altre situazioni in cui probabilmente l'ispettorato del lavoro avrebbe potuto fare un intervento proprio all'interno dell'azienda sanitaria su segnalazione degli operatori e non è intervenuto. Quindi veramente non capisco. Non capisco come si possa censurare un plus lavoro di medici che spesso non sono stati neanche ben pagati per quelle prestazioni e hanno in molti casi rischiato la vita o perso la vita in quella condigenza. Beh, insomma, andare a censurare i dirigenti di struttura complessa perché avrebbero consentito il pulsorario, il superamento dell'orario straordinario in un contesto, ripeto, in cui stiamo parlando di dirigenti medici, per cui per i dirigenti il concetto dell'orario di lavoro non è corrispondente a quello della direttiva e non è corrispondente neanche a quello del decreto legislativo che recepisce la direttiva europea sull'orario di lavoro. Molti interrogativi andrebbero posti e questo argomento secondo me va approfondito. Che cosa sia successo? Qualcuno ce lo deve spiegare. Ma mi pare di capire che per giustificare questo intervento, l'abbiamo ribadito più volte improprio dell'ispettorato del lavoro, evidentemente c'è un vuoto normativo per quanto riguarda una professione con i sanitari e soprattutto le situazioni emergenziali perché i medici avrebbero dovuto fare i conti se avessero rispettato l'orario di lavoro non solo con la loro coscienza ma anche con possibili denunci di omissione di soccorso dall'altro canto? Assolutamente sì, hanno tutte le esimenti del caso. Il vero problema è perché è scattato questa sanzione, perché è scattato questo accertamento? Questo accertamento ha dei presupposti di legittimità inspiegabili e questo è qualcosa che va approfondito. Non si può intervenire nell'ambito di una pubblica amministrazione in un contesto emergenziale in cui gli operatori sanitari, in particolare i medici, ma anche gli infermieri, gli operatori sociosanitari hanno dato tutto, spesso anche la vita e poi sanzionarli perché hanno dato quel qualcosa in più che magari ha garantito la salvezza della salute di tanti migliaia, decine di migliaia di persone contagiote. Fuori dall'episodio di cui abbiamo parlato, capita spesso o capita ogni tanto che ci siano ordinariamente delle situazioni? No, mai, non mi risulta. Per questo ti ho fatto la precisazione, non capisco. Io quando non capisco, avendo credo un'esperienza significativa in questo settore, dove sono specializzato, io non capisco che cosa sia successo. Ribadisco, per conto di miei clienti anche nel settore sanitario, ho chiesto all'ispettorato di fare delle ispezioni, fare attività ispettiva, non sono mai andate. Perché? Perché nel settore sanitario c'è l'ASDU che sovraintende a uno spazio operativo che è contiguo rispetto a quello dell'ispettorato del lavoro, cioè alla prevenzione della salute sui luoghi di lavoro. E quindi la competenza è dell'ASDU e quindi l'ispettorato non può intervenire sul luogo stesso in cui opera l'ASDU e non interviene. Ma non interviene neanche nei confronti di altre pubbliche amministrazioni. C'è una difficoltà, diciamo, culturale, oltre che giuridica, a sanzionare le pubbliche amministrazioni. In questo caso non capisco proprio il perché dell'intervento in questo settore, uno spazio emergenziale, nei confronti di categorie professionali come i medici, in cui il concetto di orario di lavoro è diverso rispetto a quello degli altri dipendenti. Certamente c'è un orario ordinario rispetto al quale è organizzata la retribuzione, però c'è la possibilità di svolgere altre attività intra-mania senza che naturalmente l'orario di lavoro venga in evidenza. C'è la possibilità di fare prestazioni aggiuntive e nessuno va a sindacale che si è stato il superamento dell'orario di lavoro. Perché farlo in un momento emergenziale in cui quella necessità di superamento dell'orario di lavoro era per salvare vite umane? Questo a me risulta francamente molto inspiegabile. E noi ci dobbiamo augurare che il Ministero del Lavoro, il Ministro del Lavoro che è già intervenuto, ma anche quello della Salute, di concerto possano presentare un disegno di leggi ad hoc, non solo per evitare che altre situazioni del genere possano ripetersi in tempi straordinari come quelli del Covid, ma dobbiamo ricordare che alcuni reparti, soprattutto i pronto soccorsi, patiscono una carenza di personale medico e talvolta in maniera ordinaria il personale è costretto a fare ore in più per garantire una copertura. Quindi l'emergenza Covid è passata, ma l'emergenza della carenza di medici, soprattutto nei pronto soccorso, potrebbe costringere ad altre, tra virgolette, violazioni dei limiti dell'orario di lavoro. Ecco perché probabilmente, credo, e se l'Avvocato è d'accordo, magari potrebbe essere un utile appoggio da parte di chi è competente nel settore, credo che un intervento, al di là di quello a sanare quello che è stato per il Policlinico di Bari, vada fatto. Sì, io credo che sia trattato di un episodio, quindi qualcosa di estemporaneo, che si chiude qui, non doveva accadere, è accaduto, per fortuna è intervenuto il Presidente della Repubblica e per fortuna è costretto anche il Ministro del Lavoro a intervenire. Su una materia come questa, caro Stefano, gli interventi legislativi sono sempre molto difficili, perché poi ti confronti anche con una disciplina europea che va calata in una situazione molto particolare come quella del lavoro ospedaliero, del lavoro sanitario e in questo caso del lavoro del dirigente medico, se è stato sanzionato il plus orario soltanto per il lavoro fatto dai dirigenti medici, individuando come, tra virgolette, datore di lavoro, i tre dirigenti delle tre strutture complesse interessate. Il problema è la carenza, come dicevi tu, se c'è carenza di medici è chiaro che queste situazioni continueranno ad esserci, continueremo a vedere prestazioni di lavoro straordinarie, continueremo ad avere costi del lavoro maggiori, più usuranti per il personale sanitario, l'intervento legislativo non credo sia necessario. Grazie all'Avvocato Enzo De Michele per averci aiutato a capire questa vicenda, ma anche quello che c'è dietro e quindi tutta una situazione che sta vivendo in questo momento dal punto di vista normativo e del diritto del lavoro, quella parte degli impiegati, della pubblica amministrazione che tutela la nostra salute, soprattutto in luoghi di trincea, quali gli ospedali. Grazie anche a voi per averci seguito anche oggi. Buona giornata. a voi, grazie Stefano, un abbraccio. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti.